Questa era una tipica strapoletta da San Giovanna, poi ce ne canterà qualcun'altro mister Lennino. E iniziamo con il capo. Oh, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo. Il capo è il capo, iniziamo con il capo. Il capo è il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo. Il capo è il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo. Il capo è il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo. Il capo è il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo. Il capo è il capo, iniziamo con il capo. Il capo è il capo, iniziamo con il capo, iniziamo con il capo. Il capo è il capo è il capo. Il capo è il capo è il capo. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. 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 e... 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 a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. e... e... a tutti. a tutti. a tutti. e... 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 a... e... 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 ... 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 non mi ho sentito, dobbiamo fare solo una botta insieme, io con la mitata, con la voce e poi io gli rispondo, voi sentite un po' la giuccia dell'orario, la giuccia dell'orario, l'effetto dell'orario, l'effetto dell'orario, non ho tempo, sigaro, versione cubana, non versione antica, versione cubana, questa la faccio sentire pure così, proprio una botta la stessa, la faccio volerlo in personale qui devo presentare queste persone, le volevo presentare queste persone, sempre alla strada qui, quindi sempre con una famiglia assoluta, mi devo misurare il microfono, non c'è un po' no, non c'è un po', no, non c'è un po' no, non c'è un po', no, non c'è un po', no, non c'è un po', no, non c'è un po' che contassi che dopo, dopo, vabbè, non c'è, sì, allora, no, 30 secondi, almeno 30 secondi, ecco, questa, questa, non mi mette la te, questa si chiama Ben, è la mamma di, questi due bambini, stanno qua, è una strana coincidenza, io gli passo 18 anni, ahahah, allora io andavo, perché io andavo, ecco che te, l'ho andata ora, l'ho andata, mi è piaciuta questa cosa, si, tenevo le cartine che mi facevano le uova, ho chiesto un'opera, domenica, e poi, non c'è, non c'è, non c'è un po' ma, non c'è un po' ma, non c'è, non c'è un po' ma, non c'è un po' quindi, la risposta tutta, non mi sono, dai, non c'è un po' cipie, 9EE, diciamo la risposta tutta, la risposta tutta, non c'è un po' eh sì, lì, no, c'è, sotto di un po' ma, non c'è... ragione, non c'è sopra ma, non c'è la luce, luce c'è and then matta, come un po' Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì.